benvenuti in questa guida top 7 bici senza pedali di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo m h c y lion bicicletta senza questa bicicletta senza pedali è un regalo perfetto per i bambini di 1 a 2 anni è divertente sicuro e facile da usare i materiali sono di buona qualità e la bici è ben progettata il colore verde è molto carino il design è moderno un ottimo acquisto punteggio 72 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo bike star bicicletta senza pedali e questa bicicletta senza pedali è un'ottima scelta per i bambini da 18 mesi il design in legno è resistente e sicuro mentre la trasformazione in triciclo offre divertimento aggiuntivo i 7 pollici di altezza sono perfetti per i bambini più piccoli punteggio 84 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo home con bici senza pedali per questa bici senza pedali di home com è un'ottima scelta per i bambini dai 2 ai 5 anni la lega di magnesio è leggera e resistente mentre il sellino e il manubrio regolabili in altezza offrono comfort e sicurezza le ruote piene assicurano stabilità e la colorazione nero e bianco è moderna ed elegante punteggio 83 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare lionelo ari e bici senza pedali questa bici senza pedali lionelo è un'ottima scelta per i bambini da 3 anni fino a 30 kg è leggera e resistente con ruote in schiuma eva da 12 pollici manubrio e sella regolabili blocco dello sterzo freno a mano campanello e borsa ottima qualità e sicurezza per i bambini punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo lionelo bart bici senza pedali questa bici senza pedali lionelo bart è un prodotto di qualità eccezionale il telaio in magnesio è resistente ai danni le ruote da 12 pollici sono ultra leggere solo 3 kg e la sella il manubrio sono regolabili ideale per bambini da due anni a 30 kg punteggio 90 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo kinder craft bicicletta fly plus ultra leggero kinder craft bicicletta fly plus è una bici senza pedali di stile retro leggera e resistente realizzata in magnesio è adatta ai bambini fino a 3 anni il design colorato e moderno la rende divertente da usare sicura e facile da manovrare è un'ottima scelta per i più piccoli punteggio 92 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica kinder craft bici senza pedali uniq kinder craft unique è una bici senza pedali in legno di alta qualità con sella regolabile ruote resistenti ideale per bambini dai 2 ai 35 kg è un'ottima scelta per iniziare a imparare l'equilibrio e la coordinazione il design colorato e moderno rende questa bici un divertimento per i più piccoli punteggio 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale